Ciao, sono Chiara Micheli e sono una social media manager certificata. Provengo dal settore turismo ed eventi, dove non ho potuto realizzarmi a pieno a causa di ciò sicuramente la crisi che ha giocato un ruolo fondamentale. Avevo sempre considerato il digitale un'opportunità e anche il nostro futuro ed è per questo che ho deciso di formarmi seriamente in questo settore. Oggi sono una social media manager certificata ed affermata, aiuto liberi professionisti e aziende del settore benessere psicologi, medici estetici, luxury hotels, a posizionarsi strategicamente online, attrarre nuovi clienti, diventare un punto di riferimento notoriti nel loro settore ed aumentare il loro fatturato. La mia professione ha una missione, quella di salvare aziende e liberi professionisti attraverso il digitale e creare lavoro per tutte quelle famiglie che ancora subiscono la crisi. Se sei un libero professionista, un'azienda del settore benessere, quindi contattami che studieremo insieme una strategia in linea con i tuoi obiettivi. Dovrai quindi soltanto attivare il tasto verde qui in basso e se poi avrai da richiedere maggiori informazioni che mi riguardano oppure conoscere maggiormente il mio background, troverai tutto in questa pagina. Ti mando quindi un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie. 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 Grazie.